la barca bene guida la barca hey abbiamo un giorno che sarà 200 kg ma io ci dico 200 kg ci sta seguendo da un'ora e si sta... io penso che si... come? ma scherzi ma ci butta a mare tutti questo che ha il peso che ho io due o tre volte e credo che... perché ci dà dei colpi del timone vedete che colpi che dà e faccio il filmato e lo faccio vedere ma vedessi che merca che ha e ci sta seguendo da tutte le parti ci segue ci segue arriva dietro ci arriva si mette si mette sul fianco si struscia io credo che ce ne siamo accorti perché se ti vado un sciacquio dall'acqua ma cos'è questo sciacquio dall'acqua sembrava che fosse la barca che...